Perribile incidente la notte scorsa a Nago, completamente distrutto il ristorante Tex-Mex. Il titolare è sconvolto, vent'anni andati in fumo, portata in salvo una famiglia intrappolata nell'appartamento del piano superiore. ITEA in arrivo la patente ha punti per gli inquilini e in tasa il gabinetto perde 10 punti su 30, una volta esauriti si viene sbattuti fuori. Maxi operazione del corpo forestale Trentino, 18 persone arrestate e sequestrate 1.500 nidacei, 7 le regioni coinvolte. Centro per la cooperazione internazionale, i lavoratori. La giunta provinciale mette a rischio posti di lavoro e credibilità, competenze riconosciute a livello internazionale. Roma salta l'emendamento per salvaguardare le risorse finanziarie delle autonomie. Trento e Bostano minacciano di impugnarlo. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata, falla più facile con CAFACLI. CAFACLI ti dà più che una mano. www.acliservizi.it 199-199-730